Con un'operazione a saldo e stralcio di circa un milione e mezzo di euro, il Centro Turistico del Gran Sasso ha battuto il debito di oltre 4 milioni che gravava sulla società. Un anno di lavoro con la progettazione di nuove iniziative per rendere più appetibile l'offerta montana-aquilana, ma soprattutto meno onerosa per le tasche dei cittadini, questo tipo di gestione. Circa 7 milioni di euro già impegnati e in parte spesi per il rilancio delle attività. La progettazione e la costruzione di un percorso dello snow park, uno snow park che è tra i più grandi dell'Appennino. Abbiamo riattivato la manovia, abbiamo ricollaudato tutti gli impianti, a primavera partiranno i lavori di sostituzione della seggioia delle Fontari, così come partiranno i lavori dell'hotel di Campo Imperatore. L'ostello è già in fase di ristrutturazione, anche abbastanza avanzata, ci sarà la ristrutturazione dell'hotel Cristallo, ha intenzione della società a gestire direttamente le strutture ricettive che danno un grande aiuto da un punto di vista economico. Un inverno, quello che si appresta al Capodanno, che stenta però a partire a causa della mancanza della neve. Fino all'altro ieri le temperature erano elevate e quindi con il caldo difficilmente si ha voglia di andare a sciare in montagna. Anche le altre stazioni che hanno l'innevamento artificiale soffrono questa mancanza, perché chi va in montagna e soprattutto chi va a sciare lo vuole fare, circondato da un panorama che sia adeguato a quello che fa. Noi ce la stiamo cavando con gli escursionisti, con chi va in montagna, con gli scalatori e chi sta salendo in albergo in questi giorni.